Donna dirigente scolastico, oggi il ruolo delle donne, soprattutto alla guida di istituti scolastici, è molto ampio. Una volta i presidi erano soltanto maschi, come è cambiato nel tempo un po' questo ruolo? È un po' cambiato perché nella scuola ormai ci sono le donne, insegnanti, dalla scuola dell'infanzia a finire anche i licei. E' chiaro che poi anche come dirigenti ci sono pure le donne e sono capaci di portare avanti le scuole. Con quale responsabilità in più? Le responsabilità sono tante, oggi come oggi il dirigente scolastico ha moltissime responsabilità e fronteggiamo ogni giorno. Difficoltà non soltanto gestionari, spesso organizzare, però le donne hanno quel senso innato anche dell'organizzazione, lo dimostrano a casa. Tra l'altro sono donne lavoratrici, nel senso che come lei sono impegnate in questo senso, hanno un ruolo, ma sono anche mamme. Quindi donne, casalinghe, insomma, come si conciliano un po' tutti questi compiti della donna? Noi donne abbiamo tante capacità, anche quella di conciliare la famiglia, la casa, il lavoro, ritengo che lo facciamo abbastanza bene. Poi avete anche una grande responsabilità perché si tratta di formare i ragazzi, insomma, si tratta di formare anche le ragazze. Spesso, insomma, si fanno dei progetti per il rispetto dell'altro sesso, non dico rispetto soltanto della donna. Questi progetti che tipo di frutti danno? Che cosa avete ottenuto nel tempo? Sono progetti molto importanti, intanto quello rispetto delle regole in genere, rispetto della persona, rispetto verso le donne, ma comunque il rispetto deve essere verso tutti, questa è la cosa fondamentale. I risultati ci sono, è chiaro che qualsiasi progetto, perché sia positivo, ci debba essere anche una collaborazione con le famiglie, perché la prima educazione nasce nelle famiglie, la scuola completa questo percorso, quindi in collaborazione sempre con le famiglie e comunque sono sempre progetti positivi e i bambini apprendono.